Hanno distribuito per le strade volantini con slogan antinazionali e hanno duramente attaccato i manifestanti. Il primo ministro ha severamente condannato il comportamento di coloro... Era da prevedersi. ...che approfittano della libertà di espressione... Scommetto che daranno di nuovo la colpa a loro. Il signor Mossadegh nel suo messaggio, oltre a far riferimento alla problematica situazione economica in cui si trova attualmente il paese, situazione dovuta all'embarco da parte dell'Inghilterra e degli altri regimi colonialisti, ha esortato una popolazione della resistenza e ha promesso il suo apporto. Sua eccellenza il primo ministro, affrontando la questione... Perché? Tu sei dei nostri? Ha dichiarato che la dipendenza economica iraniana dal petrolio è la prima causa che sta attraversando il nostro paese. Ti lascio il giornale, c'è una nostra pubblicazione. Illustra qual è la linea del partito nella situazione attuale. Leggilo attentamente. Mi auguro di rivederti molto presto.